Al termine di un lungo braccio di ferro tra maggioranza e opposizione, il Consiglio regionale ha approvato il documento di economia e finanza per il triennio 2021-2023. A votare a favore sono stati gli undici fedelissimi sui quali Donato Toma può contare in Consiglio, mentre a votare contro sono state le opposizioni rappresentate da 5 Stelle PD. Una terza posizione è quella invece rappresentata da Michele Iorio e Aida Romagnuolo, che si sono astenuti, l'ex governatore, l'ex leghista, confermano quindi una posizione di distacco dalla maggioranza della quale facevano parte. A movimentare la giornata è stata la discussione sull'inclusione o meno del documento di programmazione delle linee guida che informano il Piano di Ripresa e Resilienza Nazionale, l'ormai famoso recovery plan che dovrebbe portare in Italia 220 miliardi di euro. Per l'opposizione di quelle linee guida non vi è traccia. Il DEF dovrebbe essere un documento appunto di programmazione economico-finanziaria con una lunga proiezione, con una visione, con un sogno e con un'aspettativa di speranza per le nostre imprese, per i nostri lavoratori e per le nostre famiglie. Oggi invece ci troviamo di fronte una verbosa enunciazione di principi totalmente scollegata dalla realtà del Molise e peraltro totalmente scollegata dalle altre programmazioni nazionali, europee o del territorio. Ed è quello che noi rimproveriamo a un toma poco lucido. Molte parole, molto lunghi, pochi fatti, anzi zero fatti. Al Molise vanno 77 milioni in meno rispetto ai criteri che darebbero al Molise sulla nuova programmazione molti più fondi e nonostante la situazione migliora perché torniamo in obiettivo 1, prendiamo meno soldi. In una situazione di fortissimo deficit, soldi soprattutto per le imprese e per i lavoratori, sarebbero stati fondamentali. Di avviso diverso la maggioranza che affida il commento allo stesso presidente Toma. L'impostazione è quella che ripercorre un po' l'impostazione documento di economia e finanza nazionale proiettato in sede regionale. È un'impostazione che mira al transizione digitale, al verde, allo sviluppo economico di questa regione, in particolare del tessuto imprenditoriale delle piccole e medie imprese. È un documento che traccia nei prossimi tre anni anche la ripresa post-covid. Il documento di economia e finanza regionale pone anche le basi per una ricostruzione del tessuto economico, ma anche del tessuto sociale e anche della valorizzazione di quello che è il nostro ambiente e la nostra cultura. Importante per Toma anche la previsione nel recovery plan di una buona fetta di risorse per il sud. C'è un capitolo nuovo che non c'era con il governo Conte, del capitolo sud, un gran lavoro fatto dalla ministra Carfagna, devo dirlo. Il 40% delle risorse saranno spese al sud, una buona parte spetterà anche al Molise, di questo siamo molto soddisfatti. Seguiremo i pilastri del recovery plan e che sono poi riprodotti pedisseguamente, anzi un po' più ampliati nell'ambito del nostro documento di economia e finanza regionale. Sul documento di economia e finanza il Movimento 5 Stelle ha presentato quattro emendamenti, tutti bocciati. Siamo solo all'inizio, dice Greco. La sessione di bilancio infatti si completerà soltanto il prossimo 29 aprile. Riproveremo a mettere in luce i limiti di questo governo regionale. Ci riproveremo nei prossimi giorni. Oggi è solo iniziata la sessione di bilancio, però davvero mi stupisce la cecità di questa giunta. Abbiamo provato a modificare quel documento di programmazione parlando di transizione energetica, di transizione ecologica, di digitalizzazione, parlando di turismo e quindi di sviluppo turistico compatibilmente con la vocazione del territorio. Purtroppo questi temi non sono stati accettati, non sono stati votati dalla maggioranza. Noi chiaramente non molliamo, staremo qui tutta la settimana e cercheremo di imporre un'agenda dei lavori che metta al centro queste priorità.